Tutto quello che poteva essere e non è stato. Questa, in estrema sintesi, la partita di ieri tra Agropoli e Virtus. Il tiepido sole di aprile, il cielo limpido, sono la degna cornice di una gara che è già da dentro o fuori, soprattutto per i delfini, chiamati a una prova di orgoglio dopo la scialba esibizione di domenica scorsa contro Langri. L'avversario è di quelli tosti che ha ambizioni, ma la linea tracciata è quella di mangiarsi l'erba del Guariglia, lasciando sul campo tutto e anche qualcosa in più. L'inizio è promettente, Falco a gamba e mette il vestito buono in due accelerazioni che fanno male, ma che non si concretizzano. La Virtus sta lì, sorniona e ordinata in campo, aspettando il momento giusto per colpire. La gara si lascia vivere in 20 minuti, in cui poco accade ma nel cuore del primo tempo. Santo Nicola taglia a fette la fascia dell'Agropoli, ne supera due e la mette al centro, dove Marrocco, abile a smarcarsi, insacca da bomber consumato. L'Agropoli non si perde d'animo, recupera palla, lancio sporco e molliccio, che però Margiotta trasforma in assist, sontuoso per lo scatto di Mincione, che brucia l'avversario e incrocia sul secondo palo il gol del pareggio. L'inizio del secondo tempo promette bene, Falco è continuo, vuolo attento, fortunato, prezioso e grande, subentrato a Fucci nel primo tempo, cresce di intensità. Siamo a metà della ripresa, Mastroberti converge al centro, ma si allunga la palla, la recupera la Virtus, ma fortunato, decide che è ora di pressare alto, la recupera scippandola a Manzillo e la porge a Margiotta, che carica la catapulta per scagliare il masso oltre le linee nemiche. Tira e spacca il guariglia in due, la palla fionda in porta, senza rispetto, è il 2-1 che riaccende l'anima e sembra quasi giusto, sia venuto così, ad alimentare i sogni di gloria, basta il minuto successivo quando Manzillo entra duro su De Cristofaro e si guadagna il rosso diretto. L'Agropoli è in dieci e con un portiere, che non è un portiere, avendo finito i cambi un minuto prima. La Virtus schiuma rabbia e si scaglia in avanti, Dattilio la mette morbida, Anzalone prende sul serio il suo ruolo ed esce, la palla arriva Maiese che mette dentro il pareggio, all'ultimo respiro. Poteva essere e non è stato, ma quello che è stato ha fatto sussultare, nel bene e nel male. L'Agropoli ritrova il suo orgoglio, grande quasi come la delusione di vedere squagliarsi in mano una vittoria che sentiva sua, ma va bene, anche così. Il calcio è strano, è strano parlare di una partita dove l'Agropoli è stata per lunghi tratti padrona del campo, ha fatto una partita giusta, ci hanno messo l'anima, nonostante lo svantaggio sono riusciti a riprendere la partita e poi a portarsi in vantaggio. Poi probabilmente è un errore grave dell'arbitro e ci ha condizionato troppo perché il nostro portiere ha subito un fallo, infatti l'arbitro ha decretato un calcio di punizione e poi si è inventato l'espulsione, la doppia munizione, non mi ricordo se l'espulsione diretta o la munizione del portiere che stava a terra e si lamentava del fallo subito. E' difficile commentare una prestazione del genere perché noi ce l'abbiamo messa tutta, la squadra ha risposto presente, la squadra ha cercato in tutti i modi di dare la soddisfazione anche ai nostri tifosi, alla società che stanno facendo grandissime cose per tenerci in questo campionato. Purtroppo la sfortuna questo ha voluto e ci dobbiamo rimboccare le maniche, abbiamo visto che siamo una squadra tignosa, una squadra che può fare bene in questo girone, noi dobbiamo ripartire con ancora più forza, crederci fino alla fine, questo è il nostro obbligo morale nei confronti della società e della tifoseria e lo faremo con tutta la forza possibile. Grazie.